Già mi rendo conto che per quanto sia informale, brainstorming, arriva uno, ovvero vedi, si mette al centro e di fatto poi gestisce la cosa. Per me è un problema perché c'è un problema di sovraesposizione di quando uno viene secondo il pubblico e protagonista, mentre un progetto come Urban Experience sta cercando, perché è appena nata l'associazione di promozione sociale Urban Experience, se siete riuscire a creare proprio una piattaforma di lavoro. Per qualcuno può sembrare retorica, ma secondo me è sostanziale questa cosa, è perché riuscire ad affinare le modalità partecipative e con dei nodi del nostro rete.